Se potessimo comprimere il nostro pianeta fino a farlo diventare poco più piccolo di questa biglia, il nostro pianeta diventerebbe un buco nero. Per nostra fortuna non siamo a conoscenza di processi fisici in grado di portare a questa fine catastrofica, ma è comunque il risultato della teoria della relatività generale di Einstein. Poche settimane dopo che Einstein pubblicò la sua teoria, nel gennaio 1916 Carl Schwarzschild pubblicò la sua prima soluzione alla relatività generale, che cercava di descrivere tra le altre cose la meccanica celeste, quindi i movimenti dei pianeti all'interno del sistema solare. Purtroppo di lì a poco Carl Schwarzschild morì a causa di una malattia contratta sul fronte della Grande Guerra e non seppe mai cos'altro la sua teoria era in grado di prevedere. Buchi neri, oggetti così compatti che persino la velocissima luce passando troppo vicino a uno di questi oggetti sarebbe per sempre rimasta intrappolata. La soluzione di Schwarzschild stabilisce un semplice criterio per determinare se un oggetto diventa un buco nero. In particolare, se la dimensione fisica dell'oggetto diventa più piccola di una dimensione caratteristica che dipende quasi esclusivamente dalla massa, allora l'oggetto diventerà un buco nero. E se per la Terra è sufficiente comprimerla, entro questa biglia, circa un centimetro e mezzo di diametro, per il Sole è sufficiente comprimerlo fino a sei chilometri di diametro. Questo potrebbe farci pensare che quindi tutti i buchi neri, concentrando tutta questa quantità di materia in uno spazio così piccolo, siano molto densi. Ma non è necessariamente così. Infatti la dimensione di un buco nero dipende appunto dalla massa. E maggiore la massa di un buco nero, maggiore sarà la sua dimensione, quindi maggiore anche lo spazio che occupa. Questo vuol dire che la densità di un buco nero in realtà diminuisce all'aumentare della massa e quindi se prendessimo un buco nero sufficientemente grande, la sua densità sarebbe in realtà molto molto piccola. Ma esistono buchi neri così grandi da avere una densità così piccola? Ebbene, nell'aprile 2019 la collaborazione Event Horizon Telescope ha pubblicato per la prima volta un'immagine di un buco nero. Si tratta del buco nero M87 star. È un buco nero che ha una massa circa 6 miliardi di volte quella del nostro Sole e una dimensione circa 3 volte quella del nostro Sistema Solare, sempre che per voi il Plutone sia ancora un pianeta. Per questo buco nero la densità è circa la metà della densità dell'aria, quindi niente di così eclatante, no? In effetti la densità non è una caratteristica principale dei buchi neri. Una caratteristica principale per questi oggetti è in realtà la cosiddetta compattezza. Quindi non tutti i buchi neri sono densi, ma tutti sono compatti. Potrebbe sembrarvi una differenza inutile, magari in un certo senso lo è anche, ma in fondo ci sono ancora persone che discutono sul fatto che il pomodoro sia un frutto o una verdura. Quindi nel dubbio fate attenzione, non dite mai che l'ananas sulla pizza è un abominio perché l'ananas è un frutto. È un abominio a prescindere.